Elisa Mancini, Assessore allo Sport del Comune di San Giustino. San Giustino ospita il terzo festival dello sport in piazza del Municipio. Ci proviamo a far partire questa piazza con degli eventi di questo genere? Sì, stiamo cercando di mettere insieme alcune piccole e grandi iniziative all'interno di questa piazza per poterla rendere sempre più uno spazio per tutta la cittadinanza, per poter vivere insieme la comunità san giustinese. Quindi ecco, ci sono iniziative del Comune, abbracciamo anche volentieri iniziative proposte anche come questa del Festival dello Sport che ovviamente ha già due edizioni illustri e ci fa piacere ospitarla anche quest'anno invece qui a San Giustino. Sport ma soprattutto sport giovanile, so che con lei sfondo una porta aperta. Sì, diciamo che noi abbiamo basato un po' quello che è la nostra filosofia amministrativa per quanto riguarda il settore sportivo nell'aiutare, nell'implementare i settori giovanili perché crediamo che siano l'elemento fondamentale, l'elemento in cui il Comune deve mettere più il proprio accento. Quindi abbiamo molte realtà all'interno del territorio che ci fanno davvero essere orgogliosi dei settori giovanili, dalle società calcistiche al pallavolo, a tutti gli altri sport che sono presenti nel territorio e che i ragazzi frequentano veramente assiduamente sempre in maniera più importante. La qualità è sempre più alta e noi ringraziamo tutte le nostre società del territorio. Sport e sociale credo sia un connubio perfetto, no? Lo sport che aiuta questi piccoli atleti a non stare per strada, a dedicarsi ad uno sport, a crescere con uno sport, a imparare a rispettarsi e a darsi una mano, gli uni con gli altri. Sì, beh, sicuramente sport e sociale sono legate a doppio filo, sia dal punto di vista poi della socializzazione ma anche poi dell'educazione, di quello che poi è l'aspetto poi pedagogico che c'è anche all'interno della disciplina sportiva. Quindi davvero è un elemento importante, come lo è appunto il sistema scolastico, lo è anche il sistema sportivo e noi cerchiamo di supportare in questo anche per poter rendere i nostri settori giovanili sempre più professionali e sempre più rivolti ai giovani e calzanti su di loro. Il Comune di San Giustino è dotato di molte strutture sportive, campi da gioco, un palazzo sport, un palazzetto dello sport. C'è questa sinergia tra associazioni e Comune per cercare di mantenere vivi questi impianti? Sì, diciamo che davvero io devo ogni giorno ringraziare le società sportive che gestiscono i nostri impianti. Davvero li gestiscono dalla Z, proprio dalla gestione spicciola dell'impianto fino poi anche all'organizzazione di tutto quello che è l'attività che all'interno viene svolta. Sono sempre molto disponibili nei nostri confronti, io parlo ovviamente del Volei Club Alto Tevere, parlo della Virtus San Giustino, dell'Ama Calcio e del Selci Calcio. Davvero li voglio ringraziare anche nominandoli perché senza nulla togliere a tutte le altre realtà sportive del territorio, però sicuramente è molto gravoso gestire un impianto, specialmente nei giorni d'oggi. Noi sappiamo che saremmo davvero come amministrazione in difficoltà se dovessimo farlo da soli. Chiudiamo questa intervista con un accenno a quello che è il problema di tutte le amministrazioni locali, questa grave crisi economica, questi tagli che il Governo centrale vi ha imposto. Non riuscite a trovare risorse neanche per fare piccoli eventi e a questo punto entrano in campo le associazioni. Sì, diciamo che la sinergia con le associazioni e tra le associazioni è l'elemento ad oggi necessario per poter portare avanti determinate iniziative perché davvero gli sforzi che l'amministrazione può fare, che tenta di fare al massimo delle sue potenzialità, sono sempre più vani e sempre minori perché la macchina amministrativa e le esigenze di bilancio sono davvero ogni anno più stringenti. Grazie. Daniela Bianconi e Andrea Arena, Carate San Giustino e Città di Castello, vediamo che state allestendo il vostro spazio, credo che ci delizierete con qualche rappresentazione. Daniela, le facciamo due battute, ci facciamo un po' di pubblicità e soprattutto che cosa farete? Allora, oggi diciamo che la dimostrazione la faranno soprattutto i bambini e i ragazzi, si cimenteranno su varie prove, sulla prova del katà che sono praticamente le forme, il kumite che è il combattimento, un percorsino di media difficoltà con un po' di scalette per la coordinazione, un po' di acrobatica e un po' di tecniche per ricollegarci un po' al karate, e in più un percorsino dove si potranno cimentare invece tutti, anche i bambini che vengono da fuori per provare. Daniela, è uno sport, il karate che sta crescendo, soprattutto a San Giustino, numeri importanti e qualche titolo che incomincia ad essere inserito nella vostra bacheca. È vero, ormai dal 2009-2010 che siamo qui quasi, siamo partiti quasi per scommessa. È andata bene, nel senso che c'è stata una buona risposta sia da parte dei bambini che si sono appassionati, hanno capito subito lo spirito di questo sport, così come i loro genitori che ci seguono, ci supportano, come potete vedere anche oggi, in qualsiasi situazione. Cosa che succede anche alle gare, ci seguono, hanno la pazienza di aspettare magari gare che durano anche una giornata intera. I risultati ci sono stati, quindi torniamo sempre molto felici. Andrea, non è giusto definire il vostro uno sport minore, perché i numeri ci parlano di numeri importanti. Sono discipline che poi te li ritrovi da adulto. Sì, sono discipline non solamente dal punto di vista atletico, ma anche comportamentale. Diciamo che è uno stile di vita, quello che noi cerchiamo di insegnare sin dai piccoli e dai bambini. Anche se si avvicina a questa arte marziale, anche qualche adulto che viene dal calcio, viene dal pallavolo, che ha necessità di qualcosa di differente. E' questa la bellezza del nostro sport. Gli adulti non lo fanno. Ai bimbi basta che gli dai un pallone e un gioco e guarda un po' quello che succede. È bello per questo. Le giornate così, grazie a voi, c'è la fortuna delle giornate così incontrarsi. Bambini di tutti gli sport li trovano insieme in pallone, in qualsiasi cosa, per fare una corsa, per divertirsi. Tu fai parte di un'associazione sportiva storica, il CUS Perugia. La differenza che c'è tra San Giustino, Città di Castello, tra la Valtiberina e Perugia, e la tua Perugia? Dunque, la differenza è sostanziale, ma perché la connotazione è differente proprio dal punto di vista culturale. Noi città universitaria, dove noi ci troviamo di fronte dei ragazzi che cambiano tutti gli anni, quindi c'è una grande varietà di atleti, gli atleti e non solo gli atleti, che però dopo si ritrovano nelle varie città da dove vengono, dove sono partiti, a riferentare le stesse discipline, sia dal rugby, sia dal karate, giudo, qualsiasi tipo di sport. Però è bello, la realtà come San Giustino e le città come Città di Castello sono belle, belle veramente, perché viene la Perugia. Andrea, da tecnico federale, che cosa speri, che cosa ti auspichi per San Giustino e anche per Città di Castello? Che ci sia la possibilità, magari, chissà, fra qualche anno di vedere un atleta alle Olimpiadi. Buttiamola là, dai! Sicuramente, per quanto riguarda il karate, sì, sicuramente speriamo che prima di tutto che il karate riesca a entrare nelle Olimpiadi. A settembre si deciderà se il prossimo quadriennio ci sarà il karate nelle Olimpiadi. Ma diciamo non tanto, che si allarghi la possibilità di scelte sportive, perché chi fa sport sta sicuramente bene. E quindi, aumentando questo tipo di sport, si fa una vita sana. E quindi è questo che non puntiamo, che sia karate, che sia giudo, che sia pallavolo, calcio, qualsiasi cosa può andare bene. Poi torniamo in chiusura a Daniela. Daniela diceva, non ci aspettavamo che San Giustino rispondesse in così poco tempo, con numeri importanti. Io credo che anche giornate come questa servono per far capire a San Giustino che cos'è il karate San Giustino. Veramente, giornate come queste, lo dicevamo prima, avvicinano parecchio. Perché avvicinano la città a quelle che sono le realtà che magari sono poco conosciute. Che solamente chi ha qualche bambino magari frequenta perché ha sentito parlare alla scuola. E queste sono importanti. È importante che il comune sia sensibile a questo, che ci sia movimento. È fondamentale. E allora chiudiamo con Daniela Bianconi. Ci vogliamo fare un po' di pubblicità per quelli che a San Giustino volessero avvicinare la vostra associazione? Che cosa devono fare? Allora, ci trovate due giorni a settimana, per ora il lunedì e il mercoledì, al centro Rainbow, che è l'ex centro Peter Pan, si trova sopra le piscine di San Giustino. Abbiamo due corsi, uno per i principianti e per i bambini, quelli un po' più piccoli, un secondo corso per quelli più grandi e quelli che hanno iniziato da più tempo. Gli stessi giorni siamo anche a Città di Castello, al centro Judo Ginnastica Tifernate, del professor Mariotti, e lì ci siamo nel tardo pomeriggio, sempre con due corsi, uno per bambini e uno per adolescenti e adulti, diciamo. Claudio Brugoni, del laboratorio ortopedico Brugoni di Città di Castello. Ti ho visto prima cimentarti con alcuni bambini sulla pedana podobarometrica, ci vuoi spiegare che cosa hai fatto? Allora, questa è una pedana baropodometrica a tapirulan, quindi possiamo farci sia l'esame statico che dinamico, serve sia al medico che agli addetti ai lavori per avere delle diagnosi di appoggio del piede, per migliorare se ci sono dei problemi posturali oppure per migliorare anche delle prestazioni sportive, quindi per migliorare anche la prestazione proprio nel tempo, ma più che altro per prevenire gli infortuni. La fase dinamica si fa di solito scalza, quindi c'è un cammino di cammino, e dopodiché, da lì vediamo se ci sono appoggi corretti o non corretti del piede. Dopodiché possiamo fare anche dei controlli con questa pedana, anche dopo aver fatto un'ortesi plantare o un tutore o qualsiasi altra cosa che può essere prescritta dal dottore, con le scarpe nel tempo, anche tra un mese, due mesi, tre mesi, per poter poi migliorare sempre l'appoggio del piede. Questo è più o meno la funzione. Claudio, abbiamo visto bambini che sono saliti sulla pedana, bambini e bambine, che cosa si può prevenire con un esame di questo genere, soprattutto in giovani età, stiamo parlando di giovani atleti che iniziano adesso il loro percorso sportivo. È chiaro che ci vuole sempre una persona delegata dietro, che può essere un medico, un fisioterapista, qualcuno che segua la persona, perché se no rimane un esame fine a se stesso. L'esame sui bambini serve più che altro perché i bambini crescono, quindi hanno uno sviluppo e l'esame deve servire per vedere la loro crescita se viene fatta in maniera corretta. Questo perché si lavora su un discorso preventivo, non su un discorso di migliorare una prestazione atletica a questa età. Si deve cercare di non, come posso dirti, di prevenire un infortunio, quindi dei difetti che possono venire nella crescita e questo serve al bambino sostanzialmente questo. Detto questo, fermo restando il consulto con un medico specialistico? Sempre, sempre il medico dietro. Queste qui sono diagnosi che vengono fatte e vengono riportate al medico e il medico poi deciderà il da farsi. Il tuo rapporto con le società sportive del territorio, perché non tanti sanno che tu puoi dare questo servizio. Beh, queste sono anche iniziative che probabilmente servono per dare informazioni che poi alla fine genitori e allenatori potranno eventualmente un giorno far sue. Sì, chiaramente questo qui serve. Noi avevamo una pedana classica baropodometrica, però non ci dava dei risultati. Questa la pedana incomincia ad essere abbastanza professionale, perché come vedi c'è la telecamera, lo puoi fare in dinamica, in istatico, quindi serve alle società sportive, abbiamo già fatto delle collaborazioni con alcune società, serve proprio per cercare di far crescere i bambini e prevenirgli l'infortunio. Quindi serve anche alle società sportive per dare un qualcosa in più ai loro ragazzi. Luca Amarini, direttore generale della Junior Tiferno, il Festival dello Sport. Questa sera premieremo anche la Junior Tiferno. E' bello che questi bimbi con un pallone tra i piedi, temperature rigide o temperature tropicali, giocano e si divertono. Ma tutto sommato è lo spirito dello sport, è divertimento in qualsiasi situazione ambientale, in qualsiasi situazione si trovano. Molte volte siamo noi grandi che complichiamo la vita e la serenità dei bambini piccoli. Per far divertire loro ci vorrebbe veramente poco. La Junior Tiferno inizia ad essere un punto di riferimento, non solo della Tifernate. Io inizio a percepire anche nel San Giustinese e nell'Umbertidese il marchio Junior Tiferno. Questo vi fa onore perché è il frutto del lavoro degli ultimi anni, direttore. Indubbiamente la Junior Tiferno ha un fattore storico dalla sua che propende per la conoscenza sia nella città di Castello che nel resimeare regionale. Sono 25 anni che è attiva, gli ultimi anni è diventata ancora più attiva avendo preso in considerazione la gestione di allievi giovanissimi esordienti del città di Castello. Perciò con un bassino di circa 300 ragazzi è impossibile che non si abbiano rapporti con società sia limitrofe o resionali ma anche a carattere nazionale. Direttore, c'è la percezione che questo accordo con la città di Castello possa rilanciare anche la società bianco-rossa o meglio la rilancerà definitivamente. È un percorso che parte da lontano, è un accordo di tre anni, però io ti chiedo, tre anni sono tanti, sono lunghi e tutto deve filare liscio. Indubbiamente tutti gli accordi hanno delle similitudini sia mentali che ideologiche, poi nell'arco di tre anni è normale che l'accordo prefissato qualche giorno fa debba avere per sua naturalezza delle modifiche oppure delle sistemazioni in base alle esigenze che si troveranno. Ma credo che col buon senso e dando priorità a quello che dicevamo prima, la serenità, il divertimento dei ragazzi, condurli a un calcio, perché per quanto riguarda l'accordo nostro e calcio, a un calcio sano sia quello che indubbiamente tutti ci prefissiamo. Per più motivi, uno per lo spirito di divertimento dei ragazzi, due per le esigenze che far giocare tanti fuori quota nelle squadre interregionali, dall'interregionale su, vuol dire lavorare bene prima nel settore giovanile. Chiudiamo con una battuta, sempre parlando di Città di Castello, sempre parlando del Città di Castello. Il sogno di tanti tifernati è rivedere come ai tuoi tempi un 11 completamente di Città di Castello o della Valtiverina. Ci riusciremo direttore? Qui mi limito a essere sul vago, nel senso che quello che tu dici, Michele, credo che sia il sogno di tutti quanti tifernati. Purtroppo negli ultimi anni c'è stato un frastagliamento di scuole calcio, un frastagliamento di idee che poco si confà con portare 11 ragazzi di Città di Castello alla squadra, che tra l'altro poi facendo la categoria interregionale è un bel lustro per tutti i ragazzi. Io mi auguro che al di là delle diverse mentalità, delle diverse appartenenze di scuola calcio, si riesca con umiltà, con volontà a unire le forze per poter portare veramente i ragazzi tutti quanti verso la prima squadra della città.